Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 un po' di latte quando se guida il primo c'è il Filippo Ringgat Grazie. 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 20 secondi giudanna? Yes. Mancano 15 secondi adesso. Ricordo, 10 secondi, mezzo punto di penalità. 5, 4, 3, 2, 1. Over time. Tecnicamente Giuseppe ha ancora 2 minuti per concludere la sua gara. I miei due tappuccini sono stati creati in free food, solo per l'utilizzo della lattiera. Questi due tappuccini invece verranno creati per l'usilio di strumenti appositi per la decorazione. Questo è un'azienda. Sette minuti e in quattro mesi. Non do ancora il timer. Sette minuti e 42 secondi. Giuseppe, sei qua. Vieni qua. Giuseppe, se la vede vuol dire che è andata bene. Com'è andata? Dicelo tu. Nobrica, festa mattina, nobrica, 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 nobrica. Nobrica, 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 nobrica. Vabbè. Ok, fermo. Buongiorno, mi chiamo Venevo Ficchero, ho 30 anni e oggi siamo qui per realizzare il tuo tappuccini di attrazione. Venevo Ficchero, posso iniziare. Prego. 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 Fundazione. Posso poter consticare? Sta arrivando. Intanto il Pubito si chiedeva che cosa Domenico andrà a fare. Quindi qua abbiamo due fotografie, se vi è sottosimune. Grazie. 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 Il primo disegno sarà la spiga. Il primo cappuccino è servito. Il secondo cappuccino è servito. Il medico va a preparare gli altri due, che si infettino più sicuri. Ancora tecnica. Non sembra di aver sfruttato del liceo. Non sembra. Non potete andare. Faccio la sorpresa. E' una ricetta, quindi, la mia è un puoile. Non hanno bisogno di essere qui. Non c'è nulla di essere qui. 4 minuti e 30 in questo momento Grazie a tutti 5 minuti e 30 La sua prima gara, Domenico Ficchiera da Augusta 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo, adesso vediamo anche a video, questo è in pre-pulling, questo invece sarà per l'utilizzo di strumenti particolari, di mini-mandaio. Grazie a tutti. 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 Sette minuti. in questo momento. Sette minuti e venti secondi. Grazie a tutti. 7 minuti e mezzo 7,30 stop, time 7,38 wow grazie 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 a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. a tutti. , , a tutti. , 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 ,, ,, ,, ,, ,, , , , , ,, , , ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, 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 ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,,,, ,. ,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, con tutti,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Come potete vedere dalle fotografie, l'uomo poi realizzerà nei tappuccini figurino un cuore. Alla vostra lega, e la prima sotto, una regolazione, ora è realizzata con il tirino di cioccolato e il caffè, e il caffè espresso, che è l'unico caffè che ci possa permettere di decorare, i più gravi però decorano anche senza crema, senza crema dell'espresso, ho detto più bravi, sempre bene. Sono passati due minuti in questo momento, quindi si mette tutto il tempo per fare bene. Io ricordo ancora compitiare la mia prima competizione. Piacenza 2004, mi sentivo le domande che mi faceva il presentatore, non le avvertivo proprio, non le sentivo, ero scioccato, piacevolmente scioccato. Io l'ho detto, è terminata la gara. Piacenza 2004, mi sentivo l'ho detto, mi sentivo l'ho detto, mi sentivo l'ho detto, Piacenza 2004, mi sentivo l'ho detto, mi sentivo l'ho detto, mi sentivo l'ho detto, Piacenza 2004, mi sentivo l'ho detto, 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 Luca Ventriglia il signor Fiume Corrado giusto? ho detto bene grazie e Roberto Pucinotta 4 minuti e 58 secondi stop ha detto stop è presentato l'Utube Olanda stop una parola di Olanda è un po' più di però 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 io l'Apollandia dove fare lo avete già fatto perché sarebbe ritardo perché sta parlando non è semplice non è facile anche l'ultima volta se io si è posso contare molto stop salvo ti ricordi un attimino eccovi qua lì lì qualcuno ha detto una volta non si scorda mai io se la dimentico qua quando c'è la teatro qui la sardegna non è bello Grazie a tutti. Facciamo una foto, ricordo, a Chiara e anche a Andrea, sul pazzo, mettiamoci tutti in fila perché ho il piacere poi di condividere questa foto di gruppo e con gli amici del Coffee Show alla Teatro Marti Addizione. Grazie a tutti.